Bene ragazzi, dopo un periodo di assenza abbastanza importante, quale modo migliore per ritornare alla ribalta se non parlando di videogiochi? Parlando dello state of play di settimana scorsa. Ehm, sì, è passata appunto una settimana, sono in un ritardo della madonna, però oramai dovreste esserci abituati. Il discorso è abbastanza semplice ragazzi, se siamo qui a parlarne le possibilità sono due. O che è stata una figata della madonna, o che è stata la merda più totale. E non ci vuole un genio per capirlo, lo capirete dal banner che ho usato, o dal titolo che ho messo, che devo ancora decidere, quindi vediamo. Direi che... Cioè, si capisce che siamo qui per la seconda opzione. Non ho mai nascosto, anche nei video, e ne ho sempre detto, di essere un sonaro doc. Sono cresciuto con Playstation, e tuttora Playstation è la mia console di riferimento. Però ragazzi, vi dirò la verità. Durante quello state of play, mi sono sentito insultato come fan di Playstation. Ma non solo come fan di Playstation, mi sono sentito insultato come amante dei videogiochi. Ma non solo mi sono sentito insultato come amante dei videogiochi. Mi sono sentito insultato a livello umano, proprio nel mio intimo mi sono sentito insultato. Mi sono sentito insultato come essere umano. Perché io veramente mi chiedo, e me lo chiedo tutte le cazzo di volte, prima o poi qualcuno mi darà una risposta. Quando vedo questi eventi di merda, me lo chiedevo quando Electronic Arts faceva quelle conferenze alle tre allucinanti. Ma anche quando ci sono questi eventi un po' più piccoli, se veramente c'è qualcuno a questo mondo che, guardando la scaletta, e guardando i giochi presentati, i trailer, i gameplay... abbia avuto il coraggio di approvare una cosa del genere. Perché una cosa del genere non va approvata, non va messa in giro. Peraltro questa volta non è nemmeno colpa nostra, perché in moltissimi, me compreso, non avevano di aspettative. Non è che non aspettative, ma proprio zero aspettative per questo state of play. Per due motivi. Il primo, dopo la amarissima delusione che è stato il PlayStation Showcase, quel grandissimo evento targato Sony, il futuro di PlayStation 5, che, come abbiamo commentato anche in video, si è rivelato essere una delusione totale. Ma anche perché, a detta loro, questo qui sarebbe stato uno state of play che si concentrava sui titoli terze parti, con un focus particolare sugli indie. E ancora più in particolare con la presenza di Little Devil Inside. Conto è creare uno state of play con giochi di terze parti, con un focus particolare sugli indie. Un altro è creare uno state of play con giochi di terze parti, con un focus particolare su indie di merda. E che cosa ci ha dato questa perla di state of play? Deathverse, Let It Die, non so se... Io penso di essere l'unico, non so quanti di voi si ricordano di Let It Die, un gioco uscito... Non mi ricordo nemmeno più quanto tempo, ma non so nemmeno se sia più vivo, ma quanto pare questo è uno spin-off. Un Battle Royale, wow cazzo, si sentiva proprio la mancanza di un Battle Royale. Un Battle Royale, peraltro, che sembra loiosissimo e tecnicamente vecchio di sette, otto anni, minimo. Poi abbiamo avuto We Are OFK, un gioco che secondo me sembra essere molto anonimo. Bugsnax, l'espansione di un gioco che secondo me la maggior parte della gente si è dimenticato che è uscito. Poi Five Nights at Freddy's Security Breach, per amor di Dio, io sono un grande fan di Five Nights at Freddy's. Mi piace molto tutta la storia che c'è dietro e per quanto sia questo una novità, no? Qualcosa di un po' più moderno, un gameplay più moderno nel mondo di Five Nights at Freddy's... C'è anche da dire che Five Nights at Freddy's penso che abbia passato la data di scadenza già da un bel po' di tempo. Death Door, ne ho sentito parlare bene, sembra carino. Dio Cristo ragazzi, Dio Cristo, Kart Rider Drift. Io veramente mi domando come questo gioco sia in piedi e non si sia preso delle denunce grosse come una casa. Perché è una copia spudorata di Mario Kart e di CTR. Ma non perché è un gioco di kart, ma perché proprio ci sono delle cose copiate. Cioè c'è tipo questo oggetto che fa creare una nuvola di pioggia sugli avversari che è palesemente preso da CTR. E la mappa ragazzi, la mappa che hanno fatto vedere, quella lì con quella metropolitana... Ragazzi è la copia spudorata di una mappa di Mario Kart 8. Come è possibile che non sia passabile per la denuncia? Ma anche se è free to play questo gioco qui, ma vaffanculo proprio. Poi King of Fighters 15, un gioco che, anche qua, sembra uscito veramente gioco dei primi tempi della PlayStation 4. Tecnicamente e graficamente indietrissimo. Poi per l'amore di Dio magari il Combat System ci faranno mega tornei galattici. Però si è presentato molto sotto tono. First Cross Trouble, questo lo metto subito dopo Kart Ride Drift. Nei... no, nei tre punti, stavo per dire nei due, ma poi ne ho visto un altro parecchio basso. First Cross Trouble, copia anche qui spudorata di Among Us. Un gioco tecnicamente orrendo, che per quanto sia adesso gratis col PlayStation Plus, non merita nemmeno. Ma anche se è gratis, non merita nemmeno di essere installato sulla console questo gioco. Non lo merita minimamente di essere installato. Con, peraltro, sto leggendo in giro che è pieno zeppo di bug e di problemi. Ma ciliegina sulla torta, questo è il gioco di cui mi stavo dimenticando. Star Ocean, The Divine Force. Ragazzi, qui stiamo parlando di un gioco che tecnicamente, graficamente, è un gioco per PlayStation 3. Modelli vecchi di 15 anni. Da quello che ho visto, sembra che quando parlano non muovono la bocca. Scenari totalmente spogli, senza niente proprio. Senza nemmeno un albero, ragazzi. Cioè, sembrava veramente un gioco brutto per Wii U. Ecco, mi ha ricordato quello. Un gioco brutto per Wii U. E poi, vabbè, Little Devil Inside, che sembra essere molto carino. Ma anche qui vedremo. Ragazzi, tiriamo in arrivi in barca. Che cos'è che abbiamo adesso? Adesso abbiamo una Sony allo sbaraglio più totale. Una Sony che, a livello di comunicazione, sbaglia tutto. Perché tu non mi puoi fare, per God of War, per su PC, un post sul blog, per annunciare il PlayStation VR 2. Lo fai addirittura in un'intervista. E poi dedichi 20-25 minuti, quanto cazzo è durato, di uno State of Play a questi videogiochi. Una Sony che è chiaro che senta la pressione dei fan che vogliono qualcosa. E che quindi, ok, la gente vuole che facciamo qualcosa. Ragazzi, buttate uno State of Play, ma piuttosto meglio il silenzio che fare una roba del genere. Una Sony che salta totalmente il periodo d'oro di vendita dei videogiochi. Che va dal Black Friday, con ovviamente Black Friday compreso, a tutto il periodo natalizio. Lasciando spazio a una concorrenza che, in maniera prepotente, fa uscire Forza, Halo e Pokémon. Che per quanto Pokémon sia, vabbè, una remastera dei giochi di 15 anni fa, è comunque Pokémon. E sappiamo benissimo che vende milioni. Mentre invece, per vedere il primo first party esclusivo Sony, cosa dobbiamo aspettare febbraio con Horizon? Se non viene rimandato. In chiusura, cara Sony mia, rimettiti in careggiata perché le cose così non stanno andando bene. Purtroppo è un periodo che sta ciccando troppo. E per quanto i fan PlayStation siano affezionati, addirittura ad avere i paraocchi, spesso e volentieri, in quello che fa, da parte mia, ma sto anche notando in giro da vari commenti, dopo tante cose, dopo un PlayStation showcase deludente, dopo questo State of Play che ha fatto cagare e dopo il periodo natalizio totalmente vuoto dal punto di vista di esclusive, dove la pazienza sta finendo. Ciao! 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 Grazie a tutti.